Colui che come figlio di Dio è da sempre coeterno al Padre che lo genera è lo stesso che cominciò ad essere dalla Vergine come figlio dell'uomo e così alla divinità si aggiunta all'umanità. Nostro Signore Gesù Cristo in quanto uomo intercede per noi presso il Padre in quanto Dio ci esaudisce insieme al Padre.